Ciao a tutti ragazzi, volevo rendervi partecipe a tutte delle mie ultime news, questo video sarà molto breve perché non ho tanto tempo, quindi vado subito al dunque. Allora, la prima news che volevo condividere con voi, devo partire di nuovo a Barcellona con il mio ragazzo Andrea, è ad aprile, sono troppo contenta, sto già un po' riguardando dove andare perché in una settimana, meno di una settimana, l'altra volta ci siamo stati 5-6 giorni, stavolta invece ci staremo proprio una settimana e guarderemo di tutto, proprio da cima a fondo Barcellona, perché ci piace tantissimo, ci piace tantissimo anche lo spagnolo e ci siamo trovati molto bene la scorsa volta, quindi abbiamo riorganizzato un altro viaggio e io sono molto contenta di questo. Allora, passiamo invece alla seconda news, che forse è una di quelle più importanti. Ho deciso di iniziare un corso di make-up finalmente, perché mi rendo conto che voglio avere almeno delle basi e voglio migliorare in questo campo e voglio sicuramente andare avanti, imparare tutto, imparare nuovi trucchi, imparare soprattutto come si mettono le ciglia finte, imparare tutto nell'arte del make-up. Quindi ho deciso di iniziare questo corso a marzo e vi farò sapere poi appena inizierò in più la cosa bella che mi fa piacere è che mi danno dopo, dopo che finisco tutto questo corso, mi danno anche un set di pennelli. Quindi ho fatto bene a non comprarlo su internet, perché ero ancora indecisa su quali pennelli prendere, alla fine non li prenderò su internet. Allora, volevo rendervi partecipe appunto, è molto importante questa cosa, quindi vi farò sapere giorno per giorno come andrà questo corso. Allora, alla prossima vi mando un mega bacio e buona giornata! Ciao, al prossimo video!